Sì, ci abbiamo messo un po' di ingranari, sapevamo che non era una squadra proprio così scarsa, facile da battere. Ci abbiamo messo un po', siamo riusciti a prendere il nostro ritmo, la nostra marcia e ce l'abbiamo fatta, non abbiamo mollato, quindi sì, siamo felici. Adesso pensiamo a Brunico, le conosciamo, ci giochiamo in campionato comunque ormai da un bel po' di anni e quindi sappiamo i loro punti deboli, loro però sanno i nostri giocandoci insieme e quindi speriamo di anche lì riuscire a dare il nostro meglio, il nostro ritmo e speriamo di farcela. Come è successo? Ne abbiamo disconcentrato, la stanchezza si vede che ne ha fatto disconcentrare, ma è stato con più di quattro andiamo noi in semifinale e noi abbiamo bisogno di superare quelle di tre, sempre ne abbiamo chiamate le tre, è stato così, non so perché, abbiamo sbagliato tanto e tanti errori tecnici oggi. Siamo tutti contenti per il come abbiamo giocato, in questo anno squadre così forti non abbiamo contrato, ma con in tutto c'è abbiamo uscito sempre con la testa alta del campo, ma abbiamo mollato, ma succede.